La storia di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne non si è conclusa in modo pacifico. Anzi, tra accuse e forti attacchi, entrambi hanno messo fine alla love story, confermando le aspettative di molti telespettatori. Infatti, tanti non avrebbero mai scommesso su questa relazione. Eppure i due ex protagonisti del Trono Over hanno scelto di provarci, lasciandosi andare anche a qualche scontro con Ida Platano. E mentre quest'ultima sembra vivere ancora nei ricordi dell'amore vissuto con il Guarnieri, Roberta dà una notizia ai suoi. La Di Padua e Riccardo si sono risentiti. Di recente, mossa dal pubblico che sui social la segue, l'ex dama ammette di aver avuto un contatto con quello che è oggi il suo ex fidanzato. Nessun ritorno di fiamma. Almeno questo è ciò che si percepisce dalle sue parole. Lei stessa, d'altronde, rispondendo alle domande dei fan conferma di essere single. Un uomo, prima di conquistarla, deve amare suo figlio. Questo è ciò che si aspetta dall'uomo che potrà stare al suo fianco. Sembra, però, che questo non sarà Riccardo. Vi rispondo così vi tranquillizzate. Sì. Ci siamo sentiti. Mi ha cercato a gennaio. Ci siamo chiariti. Il bene resta. Ho buoni rapporti con tutti e dico tutti i miei ex, Roberta Di Padua conferma. Dunque. Di aver risentito l'ex cavaliere di Taranto lontano dalle telecamere. Dopo il caos avvenuto a uomini e donne. A fare la prima mossa sarebbe stato proprio Riccardo. Il quale probabilmente ha cercato un ultimo chiede. In pochi si sarebbero aspettati questo suo gesto. Siccome era apparso abbastanza furioso. Non si sa di preciso cosa si siano detti. Ma la conversazione non avrebbe portato i due a riprovarci. Hanno avuto modo di risentirsi e pare che tutto sia comunque finito lì. Il Guarnieri si sarà scusato con Roberta per le accuse che le aveva lanciato nello studio del programma di Maria De Filippi? Nessuno dei due sembrava disposto a tornare sui suoi passi. Eppure a distanza di tempo arriva il chiarimento e forse qualche fan tornerà sogno. Prima di mettere fine al suo percorso nel famoso dating show. Riccardo aveva deciso di sganciare delle bombe sia sulla di Padua che su Ida Platano. A entrambe non le ha mandate a dire e il suo intento sembrava quello di smascherarle. Il pubblico, per la prima volta, si era schierato interamente dalla sua parte e ancora oggi c'è chi lo ricorda quando Ida si trova al centro studio. La Platano, al contrario loro, è ancora presente nel parterre delle Dame e attualmente si trova a vivere non poche incertezze con Alessandro Vicinanza. Le ultime anticipazioni segnalano, inoltre, che ha scelto di chiudere la conoscenza, di Riccardo Guarnieri, invece, non si sa molto ultimamente. Anzi, di recente a parlare di lui ci ha pensato Ursula Bennardo, che insieme a Sossio ha mantenuto un rapporto d'amicizia con l'ex cavaliere di Taranto. Resterà male Ida quando scoprirà che con Roberta Riccardo si è messo in contatto.